Qual è la collaborazione della sua azienda con la carrozzeria Fratelli Basile, se ce la può raccontare? Sì, noi forniamo la Fratelli Basile tramite il nostro distributore GF-Bite, le vernici Glanzowit, che servono chiaramente per le riparazioni delle vetture. Non ci limitiamo solo alla fornitura delle vernici, ma facciamo anche ben altro. Anzi, oserei dire che forse addirittura è la parte meno qualificante del nostro lavoro, perché fondamentalmente diamo tantissima consulenza e formazione per l'uso dei nostri prodotti e soprattutto per il funzionamento e la razionalizzazione di tutte le varie lavorazioni che ci sono in carrozzeria. Ha avuto modo di vedere la carrozzeria, soprattutto adesso mi viene da dire il reparto di verniciatura, ma non solo, ha avuto modo anche magari di apprezzare i nuovi spazi? Diciamo che questa carrozzeria non solo ha avuto modo di vederla, ma addirittura quasi di concepirla insieme ai Fratelli Basile, perché noi siamo partiti con un'idea quasi in comune e siamo arrivati poi a progettarla insieme, adesso attraverso la nostra consulenza anche a farla funzionare, cercando di limitare quanto più possibile i tempi morti per renderla sempre più affidabile e soprattutto produttiva. Ecco, l'esperto del settore le chiedo proprio questo, un cliente che porta domani la sua auto qui, cosa trova? Perché questa è una carrozzeria di assoluto valore? Beh, allora, sicuramente la qualità, ma questo credo che comunque tutto sommato sia la cosa che il cliente si aspetta in assoluto dal proprio fornitore. Conoscendo però i Fratelli Basile sono convinto che trovi anche una grande professionalità e una professionalità che va anche oltre quello che normalmente un fornitore o un carrozzeria dovrebbe fare. Sono ragazzi molto giovani, sono ragazzi che sono molto legati al loro lavoro e questo sicuramente non guasta, anzi devo dire che si percepisce soprattutto nel loro rapporto con l'azienda e c'è un'armonia che sicuramente si percepisce e questo non guasta soprattutto nei confronti anche del cliente stesso.